Il mare si riprende il suo, come previsto e senza il conforto di studi scientifici o di task force internazionali a confronto. Alla prima mareggiata e nemmeno epocale, la piattaforma dello stabilimento Il Pirata sul lungomare sud di Fossacesia è in parte naufragata, demolita dalle onde dopo solo qualche giorno dalla posa del ciamento sulla quale dovrebbe nascere una struttura ricettiva in legno. Il progetto al centro di polemiche proteste per l'inconcepibile vicinanza alla battigia e dunque ancora più in discussione col conforto dei fatti. Un cantiere sotto sequestro dopo le segnalazioni di diverse associazioni ambientaliste. Le immagini parlano chiaro, cemento in frantumi, armature in ferro piegate, i marosi che hanno invaso buona parte della piattaforma. Il Pirata cola a picco dunque, in un'assurda ambizione ricettiva che non tiene conto di distanze ma è motondoso. Forse sul lago di bomba o ai margini di una peschiera l'esito sarebbe stato diverso. Un mistero come non sia stato calcolato che il mare non è sempre in bonaccia. Alle pendici della Maiella, sulle Alpi o sulle Ande avrebbero ragionato in modo sicuramente più razionale. E sono immediate le reazioni sulla vicenda. Il coordinamento tu viva, infatti scrive, era un pronostico fatto da molti che si sta puntualmente realizzando. Non ci voleva un professore di geomorfologia per capire il livello dell'azzardo di costruire in quella posizione l'ennesimo stabilimento balneare. Il mare sta portando via anche le famose autorizzazioni rilasciate improvvidamente da tanti troppi enti. Del Pirata per ora restano pezzi di cemento trascinati in acqua dove probabilmente rimarranno. I lavori sono fermi ma anche se dovessero riprendere non avranno lunga vita. Il mare non perdona e soprattutto non chiude un occhio. Gli antipreposti invece, ed evidentemente in passato, li hanno chiusi entrambi.